Buonasera, tra poco insieme nel telegiornale parleremo della espulsione del Pubblico Ministero, del magistrato Luca Palamara, dal sindacato dei giudici, l'ANM, provvedimento durissimo e subito operativo, che significa che sono le conseguenze di quel processo che è in corso, Palamara è sotto accusa per corruzione a Perugia. Il suo sindacato prende provvedimenti e, dicevamo, sono pesantissimi, decisione tra l'altro presa all'unanimità, con conseguenze che si valuteranno nei prossimi giorni, si cercherà di capire. Certamente la reazione del diretto interessato è stata pesantissima, tanto da arrivare a valutare quanto questo possa addirittura destabilizzare uno dei poteri fondamentali dello Stato. Perché cosa è successo? Dicevamo, l'espulsione con le motivazioni che Palamara respinge o almeno dice vogliono di fare di me il capro espiatorio e allora lui non ci sta e dice io non ero l'unico, non solo, ma mandando messaggi, avvertimenti, segnali di ogni tipo in varie direzioni facendo capire che è pronto a dire chi faceva, ha detto anzi, chi ha fatto parte e faceva parte del sistema, del sistema delle correnti, sistema delle correnti che, secondo i giudici di Perugia, tra l'altro in modo penalmente rilevante, gestiva le nomine dei magistrati. Dicevamo, lo scontro è durissimo, tanto che l'attuale capo del sindacato dei magistrati ha replicato immediatamente a Palamara e ha detto comunque che dentro la magistratura c'è una situazione molto molto difficile. Parleremo di questo, vedremo anche le reazioni, ma poi sentiremo anche e andremo a verificare le condizioni di Alex Zanardi. La situazione, diciamolo, è difficilissima, è stata operata, l'operazione per quello che hanno detto i medici è andata bene, però sulle conseguenze non si vogliono e non possono esprimersi. Quel che è certo è che le condizioni sono stabili. Fisicamente Zanardi ha reagito, sta reagendo, però decisive saranno le prossime ore. È anche, dall'altra parte, inevitabile stata aperta una inchiesta su quello che è successo, su come è possibile che si sia verificato quell'incidente. Se ci sono responsabilità e di chi sono le responsabilità, si stanno ascoltando tutti i diretti interessati da chi ha organizzato gli organizzatori di quella prova fino all'autista che guidava il camion che ha investito, con il quale Zanardi si è scontrato. Ma poi vedremo anche che per la politica si chiudono domani gli stati generali per l'economia, quelli convocati dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per fare un programma, per arrivare a un piano condiviso per rilanciare il Paese. Sappiamo anche che l'opposizione si è sottratta in modo polemico, questa discussione si deve fare in Parlamento. Ma insomma, oggi penultimo giorno di incontri, consultazioni, sentiremo con chi si è visto chi ha incontrato il Presidente del Consiglio, quali valutazioni sono state fatte e soprattutto alla vigila domani dell'ultimo giorno e poi del Consiglio. Insomma, il bilancio di questi tanti giorni di confronti e di lavoro. Sentiremo anche dagli Stati Uniti perché la situazione anche lì è molto complessa. Oggi tra l'altro comizio di Trump, ci sono segnalati alcuni problemi, li sentiremo nel corso del telegiornale. Parleremo anche di un grande, a un altro grande, dello sport. Era un grande del calcio, se n'è andato Mario Corso, protagonista della stagione dei successi dell'Inter di Elenio Herrera. Questo ed altro tra poco, cominciamo con il telegiornale, tra 30 secondi con i titoli. Luca Palamara è stato espulso all'unanimità dall'Associazione Nazionale Magistrati. Sono stati provocati danni incalcolabili ed esiste una gigantesca questione morale da risolvere, dicono i vertici dell'ANM. Palamara si difende, sono stato cacciato da chi mi chiedeva aiuto. Non ho mai agito da solo, non mi hanno fatto neanche parlare, sono come l'inquisizione. Il Presidente Conte si appresta a concludere la settimana degli Stati Generali a affrontare le opposizioni, confronto accolto con freddezza nel centrodestra. La Lega ripete, le nostre proposte le abbiamo già depositate in Parlamento. Va bene il confronto, dice Giorgia Meloni, ma le nostre proposte sono sempre state bocciate. Il Premier intanto assicura, abbiamo una roadmap precisa e progetti concreti. La prossima settimana ok al decreto semplificazioni per snellire la burocrazia. A Milano è il giorno della manifestazione Salviamo la Lombardia. In Piazza Duomo circa 3.000 persone si sono ritrovate per protestare contro la gestione dell'emergenza Covid e per chiedere un cambio di passo alla guida della sanità lombarda. Intanto i familiari dei morti per coronavirus chiedono perché non parte la commissione d'inchiesta. Alex Zanardi è in coma farmacologico con danni cerebrali importanti ma che potranno essere valutati solo nei prossimi giorni. Intanto i medici dichiarano che ha lesioni severe agli occhi con possibili conseguenze alla vista tutta l'Italia dello sport e non solo. Con il fiato sospeso in attesa che il campione superi anche questa terribile prova. Intanto vengono ascoltati gli organizzatori della gara ed è indagato l'autista del tir contro il quale Zanardi si è schiantato. Un atto dovuto è stato chiarito. Le autorità egiziane hanno consegnato passaporto e vari effetti personali di Giulio Reggeni agli inquirenti italiani. Sono oggetti sottratti ai presunti assassini di Giulio che la famiglia chiedeva di riavere da tre anni. Un gesto di Alsisi definito di massima collaborazione ma sulla rogatoria ancora non si sa nulla. Il primo luglio si terrà un vertice tra autorità italiane ed egiziani. Buonasera dunque. Ancora la giustizia in primo piano con la decisione da parte del sindacato dei magistrati, l'ANM, di mandar fuori con l'espulsione, la decisione di espellere il PM, il giudice Luca Palamara dall'organismo, dall'associazione. Sapete, Palamara è accusato a Perugia di corruzione. Rientrerebbe in questo quadro l'espulsione, corruzione per aver con il sistema delle correnti lavorato in modo improprio alle nomine dei magistrati. La risposta, il provvedimento è arrivato oggi all'ora di pranzo, la risposta di Palamara è stata immediata, non ci sta e anzi scarica e coinvolge i colleghi nell'accusa, fa accuse precise o almeno coinvolge correnti e altri personaggi in modo preciso. Fatto sta che tutto questo è davvero un caso che rischia di destabilizzare uno dei poteri fondamentali dello Stato. Cacciato all'unanimità, Luca Palamara non fa più parte dell'associazione nazionale magistrati. Lo ha deciso il comitato direttivo del sindacato delle toga, accogliendo senza alcun voto contrario e una sola astensione la proposta del collegio dei probiviri. È la prima volta che un ex presidente dell'ANM viene espulso, la motivazione è pesantissima, ha commesso gravi e reiterate violazioni del codice etico. L'ex PM romano, indagato dalla procura di Perugia per corruzione, aveva chiesto di intervenire o almeno depositare una memoria difensiva, ma il comitato direttivo, anche in questo caso all'unanimità, ha respinto la sua richiesta. Si tratta infatti di un'ipotesi non prevista dallo statuto dell'ANM, l'audizione può avvenire solo davanti al collegio dei probiviri, dinanzi al quale però. Palamara non si è mai presentato. Nel corposo documento che il PM avrebbe voluto far mettere agli atti, Palamara scrive di non voler essere considerato il capro espiatorio di un sistema in cui le nomine dei responsabili della giustizia da parte del CSM sono il frutto di estenuanti accordi politici e spesso si basano su logiche di potere nelle quali il merito viene sacrificato sull'altare dell'appartenenza. E con riferimento alle chat intercettate, Palamara dice che tutti avevano qualcosa da chiedere, compreso chi, prosegue, oggi chiede la mia espulsione. La replica alle affermazioni di Palamara è arrivata dal presidente di missionario di ANM, Luca Poniz. Non c'è stato nessun capro espiatorio, ha spiegato dopo la decisione del direttivo. Abbiamo affrontato un'incolpazione disciplinare che riguardava un fatto specifico. La cena all'hotel Champagne con i politici Luca Lotti e Cosimo Ferri per discutere della nomina capo della procura romana. Un fatto, ha spiegato Poniz, con caratteristiche così illecite che il presidente della Repubblica, Mattarella, ha usato parole molto forti. Un riferimento al duro richiamo da parte del capo dello Stato alla magistratura di giovedì scorso. Il parlamentino dell'ANM ha anche sospeso per cinque anni uno dei protagonisti di quella cena, l'ex consigliere CSM Paolo Criscuoli. Non luogo a procedere invece per gli altri ex togati che nel frattempo si sono dimessi dall'associazione. Si chiudono domani gli stati generali. Quel confronto convocato dal presidente del Consiglio con parti sociali eccellenze del Paese per trovare un piano per rilanciare l'Italia. Confronto, lo sapete bene, insomma, articolato. Le opposizioni si sono sottratte da parte di tutti i leader del centrodestra. È arrivata una risposta, ma quel confronto per quanto ci riguarda si deve e si può fare in Parlamento. Oggi Conte, sentiremo chi ha incontrato e cosa ha detto, ma rilancia ancora e dice all'opposizione sono pronto a un nuovo confronto, al confronto in Parlamento e annuncia il decreto semplificazioni per la prossima settimana. Le bozze per il piano di rilancio saranno pronte la prossima settimana quando ci confronteremo anche con l'opposizione. Dagli stati generali ormai agli sgoccioli, Giuseppe Conte annuncia le tappe dei prossimi giorni a cominciare dal decreto semplificazioni e da un confronto a Palazzo Chigi con il centrodestra che ha invece disertato l'appuntamento di Villa Panfili, considerato niente di più di una passerella. Il Premier punta ad una roadmap da qui a settembre per predisporre il recovery plan da presentare all'Europa, il pacchetto di investimenti e riforme da finanziarie con le risorse che l'Unione metterà a disposizione del nostro Paese a cominciare dal Next Generation EU. Una partita tutt'altro che semplice, come dimostrato dal vertice informale di ieri con i Paesi del Nord contrarie al piano messo a punto dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen che destinerebbe all'Italia 172 miliardi di euro. Scontro in Europa rimandato a luglio, ma comunque andrà a finire. Certo che i fondi, salvo qualche piccolo anticipo, non arriveranno prima della fine dell'anno. E dunque si tornerà presto a discutere dei 37 miliardi del MES, tema che divide la maggioranza con i 5 Stelle contrari e gli altri favorevoli al loro utilizzo. E Conte che ha sempre rimandato la decisione a quando sarà definito il quadro di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione dall'Europa. Del resto anche il centro-destra è diviso su questo, con forza Italia pronta a dire sì al MES e leghe fratelli d'Italia contrari. Abbiamo posizioni diverse, ma queste spaccature sono amplificate nella maggioranza, dice Berlusconi. Questo governo non ha credibilità in Europa e ci farà pagare caro i suoi tentennamenti. Lega e Fratelli d'Italia ribadiscono di essere pronti al confronto nelle sedi istituzionali, ma attendono con grande scetticismo la convocazione a Palazzo Chigi. Le nostre proposte sono già depositate in Parlamento. A partire dalla pace fiscale non abbiamo bisogno di ville o di sfilate, fanno sapere dal carroccio, mentre il partito di Giorgia Meloni dice di non essere disponibile a perdere tempo. Serve un confronto mirato e concreto. Al governo e soprattutto agli amministratori locali si rivolgono i manifestanti che oggi sono scesi in piazza. A Milano circa 3.000 persone, manifestazione Salviamo la Lombardia, protestano contro la gestione dell'emergenza. Mentre i numeri dicono che il contagio da coronavirus va sempre diminuendo, in 11 regioni non c'è stata nessuna vittima, rimane il fatto che i contagi e le poche vittime sono ancora lì nella Lombardia. Aumentano le guarigioni, calano le terapie intensive, ma la battaglia contro il coronavirus in Lombardia non è finita. Oggi i nuovi casi nella regione più colpita d'Italia sono 165, un lieve aumento rispetto ai 157 di ieri. Nel nostro paese ci sono in tutto 262 contagiati. La Lombardia offre ancora il contributo più alto anche in termini di decessi delle 49 vittime in Italia, 23 sono lombarde. Dei positivi lombardi, 102 sono stati trovati attraverso l'attività di screening ormai consolidata tra test sierologici e tamponi. Numeri confortanti, ma l'attenzione resta sempre alta nell'evitare gli assembramenti e oggi non solo per questo, a preoccupare non poco, sono state tre manifestazioni a Milano. Due con sfumature e toni diversi avevano lo stesso obiettivo. Le dimissioni dei vertici regionali lombardi. La prima in piazza Duomo più composta, con la presenza anche di rappresentanti della sinistra milanese, i manifestanti si sono inginocchiati, hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del covid, circa 3.000 alle presenze. Non solo Duomo, poco distante sotto Palazzo Lombardia, gruppi appartenenti ai centri sociali della città hanno escenato una passeggiata di protesta con i fumogeni. La preoccupazione maggiore nel pomeriggio però era il concentramento di piazzai Loreto, organizzato da gruppi anarchici, imponente la presenza delle forze dell'ordine a protezione del centro città e la centralissima Corso Buenos Aires. Gli antagonisti almeno 400, alcuni venuti anche da fuori, hanno sfilato lungo via Padova lasciando scritte contro lo Stato, le forze dell'ordine, il cuore della protesta, la solidarietà agli antagonisti detenuti, imbrattate con vernice nera alle porte di alcune banche. Capire cosa è successo in Lombardia, perché qui l'epidemia ha colpito così duro, sarà ufficiale a breve la nomina del virologo Andrea Crisanti, che ha affiancato Zaia nelle prime settimane dell'emergenza in Veneto, tra i consulenti del pool, incaricato dalla procura di Bergamo, nell'inchiesta per epidemia colposa sulla mancata zona rossa nei comuni di Alzano, Lombardo e Nembro a inizio marzo e sulle eventuali negligenze all'ospedale di Alzano. Intanto nell'altra provincia lombarda più colpita, Brescia, è stato reso noto il risultato di un questionario compilato dai medici della provincia. L'83% ha giudicato inadeguato l'approccio delle autorità sanitari regionali per contrastare l'epidemia. Intanto poco fa sono arrivate le nuove linee guida dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, per quanto riguarda la gestione di chi viene contagiato e come si deve comportare. Sapete, ci sono state polemiche nelle ultime settimane rispetto all'Organizzazione Mondiale della Sanità e alcune dichiarazioni e alcuni comunicati diffusi, probabilmente anche questa, perché c'è una vera e propria inversione di tendenza. L'OMS non raccomanda più il doppio tampone negativo per certificare la guarigione da Covid e liberare i pazienti dall'isolamento. Quindi evidentemente vedremo, insomma, questa è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E bastano invece tre giorni senza sintomi. E quindi i criteri sono per i pazienti sintomatici dieci giorni dall'insorgenza dei sintomi più almeno tre giorni senza sintomi. Questi sono i pazienti sintomatici che hanno evidenza di essere contagiati. Per i pazienti asintomatici invece dieci giorni dopo il tampone positivo possono tornare a circolare liberamente. Questo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre la situazione torna preoccupante in una zona della Germania. La Germania potrebbe rimettere in lockdown gli abitanti di uno dei suoi lander più popolosi, i 17 milioni del Nord Reno Westfalia, la regione di Colonia e Dusseldorf per intenderci. O perlomeno coloro che vivono nelle vicinanze di Guterreschlag. È lì infatti che si trova il centro di trasformazione e trattamento della carne della Tönis, dove qualche giorno fa è stato individuato un focolaio di infezione che, stante anche certe leggerezze ammesse dalle autorità, non si è riusciti a contenere a sufficienza. Morale, ad oggi, si contano ben 1029 positivi fra i dipendenti. Che i mattatoi fossero luoghi dove Covid-19 aveva vita facile lo si era capito da tempo, ma la situazione tedesca sembra essere sfuggita di mano. Il problema dunque resta. La maggior parte dei dipendenti dello stabilimento, fra l'altro, proviene da Bulgaria e Romania. È lì che sono tornati agli inizi di giugno per brevi periodi di vacanza ed è lì, si presume, che si sono infettati. Ora sono tutti in quarantena, compresa la maggior parte dei dirigenti e per fare i tamponi il governo ha persino chiesto l'aiuto dell'esercito. Ma, dice il governatore del Land, l'azienda ha disatteso molte delle indicazioni che erano state date, a partire dalla possibilità di tracciare non solo i dipendenti, ma anche le persone con cui erano venuti in contatto. E dunque ecco l'ipotesi di chiusura generalizzata, anticipata intanto già da scuole e asili che avevano riaperto da poco. Chi invece sembra aver riportato sotto controllo il focolaio partito dal mercato di Xinfadi è Pechino, dove a oggi si contano solo 27 nuovi casi, anche se la misura è costata per l'appunto la chiusura di buona parte della città. Dilaga invece il virus in America Latina, Brasile soprattutto, dove al contrario nulla viene fatto dal presidente Bolsonaro per limitare la pandemia. E così da ieri il Brasile è il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, ad aver superato il milione di contagiati. In tutto, a oggi nel mondo, si contano più di 8 milioni e 700 mila persone colpite dal virus e almeno 460 mila vittime. E parliamo solo di dati ufficiali. Sono stati consegnati agli inquirenti italiani i documenti di Giulio Reggeni, che secondo gli investigatori egiziani erano in possesso di Giulio al momento del ritrovamento, sono in corso accertamenti, inizieranno accertamenti per valutare l'autenticità, se tutti questi oggetti appartenevano veramente a Giulio. Ovviamente c'è il passaporto e alcuni documenti, ma altri bisognerà verificare. E questo potrebbe essere un primo passo verso quella collaborazione che ormai ha più di 4 anni dalla morte di Giulio, potrebbe portare alla verità su quello che è successo al Cairo. C'è il passaporto, un bancomat, ci sono i documenti di riconoscimento dell'Università di Cambridge e dell'Università Americana del Cairo. Altri oggetti, tra cui un orologio e alcuni grammi di hashish, secondo gli inquirenti egiziani, sono quelli appartenuti a Giulio Reggeni. Effetti personali che, dissero, erano stati sequestrati ad una banda di criminali comuni uccisi il 24 marzo del 2016, ritenuti in quella fase come responsabili del sequestro e l'uccisione del ricercatore friulano, il cui corpo senza vita era stato ritrovato due mesi prima alla periferia della capitale. Il materiale consegnato agli investigatori italiani dovrà ora essere esaminato per distinguere ciò che era, certamente nella disponibilità di Reggeni, da altri elementi, come la droga o un paio di occhiali da sole femminili, che potrebbero essere stati il frutto di un tentativo di depistaggio. La consegna di questi elementi, che erano stati richiesti dalla famiglia Reggeni tre anni fa, potrebbe essere un gesto simbolico di disponibilità da parte del Cairo e del presidente Al-Sisi, che ha rinnovato le assicurazioni di collaborazione al governo italiano. Arriva all'indomani dell'audizione del premier Conte presso la commissione parlamentare di inchiesta e nella fase in cui si è tornati a parlare dei rapporti tra Egitto e Italia alla luce dell'accordo per la vendita di due navi della classe Frem e per la cessione di altre forniture militari. Il tempo per i gesti simbolici è scaduto, avevano detto i genitori di Reggeni, che ora potrebbero essere richiamati per il riconoscimento del materiale spedito a Roma. Nel concreto si attende ancora una risposta alla rogatoria internazionale inviata a suo tempo dai magistrati della Procura di Roma per poter avviare l'iter di una prima convocazione dei cinque tra funzionari e quadri degli apparati di sicurezza militari del Cairo indagati per la morte di Reggeni. La possibilità di procedere nei loro confronti appare ancora remota e chissà se qualcosa di nuovo emergerà dal prossimo vertice tra gli inquirenti dei due paesi convocato in videoconferenza all'inizio di luglio. Negli Stati Uniti adesso, dove dovrebbe iniziare a momenti, se non è già iniziato il primo comizio verso le presidenziali del Presidente Donald Trump. Tra l'altro le notizie che arrivano è di un clima che rimane molto teso perché in particolare si è saputo che la sicurezza ha sparato, ora vedremo, ma insomma nei confronti in direzione di un cittadino afroamericano che si stava lamentando perché avevano spostato la sua auto ed era stata danneggiata. Cercheremo di capire e di verificare. Un'altra persona, una donna che cercava di entrare nel posto dove si tiene il comizio è stata bloccata e non è stata fatta entrare perché aveva una scritta che ricordava l'omicidio di George Floyd. e questa è la situazione con Trump che se la prende intanto va avanti e se la prende con tutti, davvero con tutti. La Casa Bianca ha perso. Le memorie di John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale, arriveranno come previsto martedì nelle librerie statunitensi con tutto il carico di rivelazioni compromettenti e imbarazzanti su Trump. Il giudice Royce Lambert ha negato il blocco della pubblicazione che era stata chiesta dal Dipartimento di Giustizia per rivelazione di informazioni classificate. Primo emendamento, cioè libertà d'espressione, contro sicurezza nazionale. Nelle motivazioni della sentenza si legge che il governo non è riuscito a dimostrare che un divieto impedirebbe danni irreparabili. Si esprime preoccupazione perché si riconosce che Bolton gioca d'azzardo con la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ma si sottolinea che sarebbe inutile sequestrare un libro di memorie politiche con oltre 200.000 copie già distribuite. Il danno insomma è fatto e Trump non l'ha presa bene. In un tweet attacca il suo ex collaboratore John Bolton che era un fallito finché non l'ho riportato in auge ha violato la legge diffondendo molte informazioni classificate e pagherà un prezzo alto per questo come altri prima di lui. Questo non deve più accadere. Ma intanto è esploso un altro caso. La Casa Bianca ha deciso di silurare Geoffrey Berman non è popolare procuratore di Manhattan che guarda caso ha incriminato l'ex legale di Trump Michael Cohen e sta indagando sull'attuale avvocato personale del presidente Rudy Giuliani. Il ministro della giustizia Barra ha annunciato le dimissioni di Berman che però non ha alcuna fretta di farsi da parte almeno fino a quando la persona nominata al suo posto non sarà confermata dal Senato. Il tutto a poche ore dal comizio di questa sera a Tulsa in Oklahoma dove sono attese migliaia di persone dove c'è stato l'ennesimo omicidio di un afroamericano e dove poco fa questa donna in possesso di regolare biglietto per assistere al comizio del presidente è stata arrestata perché indossava la maglietta con la scritta non posso respirare. Il presidente vuole rilanciarsi dopo che l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica hanno offuscato la sua immagine e i sondaggi lo danno fortemente in ritardo rispetto a Joe Biden. Per questo chiama a raccolta il suo elettorato sfidando le autorità locali che volevano bloccare l'evento per evitare che il covid si diffonda in Oklahoma negli ultimi dieci giorni i contagi sono quasi triplicati. Alex Zanardi si trova e resterà in coma farmacologico ancora ancora si troverà resterà per qualche giorno questo lo dicono i medici dell'ospedale di Siena dove è stato ricoverato dopo il grave incidente di ieri a Pienza gli stessi medici dicono che è neurologicamente molto grave restano gravi ma stabili le condizioni di Alex Zanardi ricoverato da ieri al policlinico Le Scotte di Siena l'intervento di tre ore effettuato dal professor Giuseppe Olivieri è servito a ricomporre un quadro clinico che subito dopo l'incidente appariva disperato passate queste prime 24 ore la situazione è andata via via stabilizzandosi con Zanardi che assistito dalla moglie Daniela è ricoverato nel reparto di terapia intensiva in coma farmacologico indotto nel tardo pomeriggio il responsabile del reparto rianimazione professor Sabino Scolletta ha fatto il punto della situazione potersi esprimere poter pensare a quello che sarà nei prossimi giorni è difficile poterlo dire per un paio di motivi a volte il trauma ha un'evoluzione quindi anche rapida e immediata ma soprattutto siamo costretti a sedarlo profondamente quindi con dei farmaci e questo per stabilizzare il quadro neurologico è verosimile che la prossima settimana in qualche modo potremmo forse decidere di sospendere la sedazione naturalmente valutando le condizioni cliniche se questo ce lo consentono per poterlo valutare anche neurologicamente non sono da escludere sia problemi neurologici che alla vista ci possono essere problemi neurologici anche alla vista perché il trauma non è soltanto cranico ma è interessato anche il massiccio faciale e quindi il naso gli occhi le orbite e quindi potrebbe essere anche presente qualche lesione a livello oculare dei disturbi della vista questo è possibile ma può anche non essere così ci sono come dire tante possibilità di evoluzione proseguono intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri hanno acquisito un filmato amatoriale mentre l'autista del camion contro cui Zanardi è andato ad impattare ha dichiarato di aver tentato una manovra disperata evitando così che l'impatto divenisse frontale ascoltati invece dai carabinieri gli organizzatori della staffetta obiettivo tricolore mentre il sindaco di Pienza Manolo Garosi ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione riguardante lo svolgimento della manifestazione a 79 anni è morto Mario Corso il mancino di Dio negli anni 60 con la sua Inter aveva davvero vinto tutto Meglio un solo piede buono che due scarsi Mario Lino Corso il mancino più estroso degli anni 60 rispondeva così a chi gli rimproverava di calciare esclusivamente di sinistro i calzettoni abbassati erano il suo marchio di fabbrica un omaggio a Sivori il re dei dribbling e dei tunnel e l'undici è stato il numero di maglia che lo ha accompagnato per quasi tutta la carriera non era però un'ala sinistra e neppure un attaccante oggi verrebbe definito un trequartista veronese di nascita e sanguigno per carattere era un concentrato di genio e indolenza quando faceva troppo caldo a San Siro era frequente vederlo stazionare nelle zone in ombra del campo lo rimproveravano di correre poco o almeno così dicevano i maligni appoggiando la perfidia di Gianni Brera che lo chiamava corso participio passato del verbo correre eppure durante un amichevole contro il Brasile nel 1958 fece ammattire il suo marcatore stregando niente meno che Pelé vieni a giocare con me in Sud America pare gli disse Orei a fine partita a lui è attribuita soprattutto la paternità delle punizioni a foglia morta sui calci da fermo colpiva con rara sensibilità il pallone che partiva piano e prevedeva traiettorie imprevedibili per i portieri mai protagonista di un mondiale con l'Italia corso è stato uno dei punti di forza della grande inter di Elenio Herrera e di Angelo Moratti il primo insisteva per cederlo l'altro preferiva tenerselo stretto vestì i colori nerazzurri per 16 stagioni dal 57 al 73 segnando 95 reti in poco più di 500 partite vinse quattro scudetti due coppe dei campioni e due coppe intercontinentali nell'85 tornò a Milano da allenatore Mario Corso si è spento nelle scorse ore dopo un breve ricovero in ospedale avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 25 agosto nel 95 lo scrittore Edmondo Berselli gli dedicò il libro il più mancino dei tiri esaltando uno dei talenti più puri del calcio italiano conosciuto anche come Mandrake e il piede sinistro di Dio 8 e mezzo dopo il telegiornale noi ci rivediamo tra qualche minuto con gli eventuali aggiornamenti Rieccoci con un aggiornamento che è arrivato poco fa veramente pochi istanti fa dagli Stati Uniti lo leggo insieme a voi e riguarda potrebbe davvero cambiare non sconvolgere ma insomma complicare la campagna elettorale perché si è appena saputo che sei persone dello staff del presidente Donald Trump che stanno tra l'altro sono impegnati con lui in giro nella campagna elettorale che iniziava vi dicevo oggi e sono al comizio di Trump a Tulsa sono risultate positive al coronavirus questo lo rende noto la CNN naturalmente su questa notizia e tutte le altre vi rimando agli aggiornamenti al telegiornale della notte per quanto ci riguarda per ora è tutto buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti